Allora, mister, dicevamo prima una partita ben giocata da ambe e due le squadre, con la sua squadra che ha giocato un ottimo calcio, ha portato un 4-1 che è un risultato rotondo, forse troppo per i valori visti in campo, la sua squadra che comunque è la prima della classe ha affrontato quella che è la rivelazione di questo campionato d'eccellenza. Cosa ne pensa di questa partita? Vero, condivido quello che hai detto, il risultato rotondo non lo so, però sicuramente noi abbiamo giocato un grandissimo calcio, perché avevamo di fronte una squadra che mi aspettavo, molto propositiva, due squadre che pensano più a offendere che a difendere, è venuta fuori una bellissima partita, credo che oggi la differenza sia stata la qualità nostra in certe situazioni dove veramente i nostri giocatori sono stati devastati. Io penso che la Lega abbia tutto accanto in regola per fare un discorso divertice, quindi secondo me questo è un passo in avanti enorme, anche dal punto di vista mentale, perché incontrare una squadra come la Lega, che era in salute, che era la 6 domenica, che faceva risultato, che giocava benissimo a calcio, secondo me ci gratifica molto e ci dà una spinta ulteriore.